cari concittadine e cari concittadini oggi ci troviamo a sessa nei luoghi della mia infanzia siamo nel sud della svizzera non lontano dal confine è qui che da bambino festeggiavo il agosto ed è proprio qui che mi sento a casa nella mia patria la patria è dove sentiamo di appartenere dove abbiamo i legami dove persone e luoghi ci sono familiari ma la patria è molto più di questo non la definiamo da soli ma insieme la patria non è io la patria è noi questo lo percepiamo con forza soprattutto nel nostro paese dove la diversità delle culture non ci divide ma ci unisce dove la pluralità è fonte di ricchezza la patria è allora più di un semplice luogo la patria è un sentimento un sentimento come quello che oggi mi ha accompagnato nel mio viaggio in treno attraverso la svizzera per noi la patria la libertà e il sentirsi al sicuro sono cose scontate per milioni di persone invece non è così pensiamo alla guerra in ucraina proviamo a immaginare anche solo un attimo che cosa voglia dire vedere il proprio paese ridotto in macerie e non sapere come sarà il futuro che cosa significhi dover fuggire dover convivere ogni giorno con la distruzione e con la morte per queste persone la patria è associata a disperazione tristezza paura che cosa significa questo per noi significa che essere liberi e avere una casa non è scontato significa anche che siamo chiamati tutti e tutte ad aiutare aiutare le famiglie rifugiate affinché possano sentirsi a casa anche qui da noi e aiutare a ricostruire aiutare a guarire le ferite sono orgoglioso di essere il presidente di un paese che ha immediatamente offerto con generosità il proprio aiuto e accolto oltre 50.000 persone in difficoltà cari compatriote e cari compatrioti ne siamo tutti consapevoli il mondo è diventato meno sicuro più instabile le sfide globali come la pandemia il cambiamento climatico le tensioni geopolitiche e ora anche questa guerra riguardano tutti noi perché la nostra casa è anche il mondo l'indebitamento l'inflazione o la scarsità di risorse energetiche sono rischi che dobbiamo imparare a gestire insieme non esiste una bacchetta magica per risolvere questi problemi neanche con le migliori politiche sono rischi globali che riguardano tutti noi ci sono momenti in cui restare uniti è fondamentale in cui i propri interessi personali non possono essere messi al primo posto ed è proprio in questi momenti che il concetto di patria si carica di significato e diventa più di una semplice parola ma anche più di un'area geografica abbiamo il privilegio di vivere in un paese che offre prospettive uniche grazie all'operosità dei cittadini che la esercitano con responsabilità e modestia ciò rafforza le istituzioni e conferisce forza innovativa combinando la tradizione con il progresso siamo riusciti a rimanere solidi e aperti al mondo la nostra pluralità con le sue minoranze non è sempre stata facile ma è una grande ricchezza in 731 anni di storia ci ha insegnato a vivere insieme ci ha insegnato la tolleranza il rispetto la coesione e l'esercizio della democrazia l'augurio che esprimo oggi a tutti voi è quello di preservare questo impegno anche in futuro a tutte e a tutti voi auguro un buon primo d'agosto